Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao amici di Videoradio Channel! E ciao Beppe! Ciao Leo, il nostro grande capo della Videoradio Channel! Cosa stiamo a fare qua noi due? Il grande Maurizio Vercon, grande chitarrista! E' grandissimo Giorgio, Giorgio Usai! Ok, qua si parla di storia ragazzi, ok? All'inizio, dico la verità, ero un po' scettico e poi mi sono divertito, è stato un bel gioco di questo famoso disco, è un singolo! Diciamo intanto subito quando uscirà, perché uscirà brevissimo! 13 ottobre, l'uscita ufficiale su tutte le piattaforme! E come si chiama? Anima! Anima ragazzi, Anima! Diciamo che è un pezzo che richiama un pochettino il 60-70, no? Sì, è un pop rock, dai! Mi sono divertito a cantarlo, dico la verità! Ricordiamo anche chi ha partecipato in questo progetto, certo! Perché da parte mia c'è Cristian Agosta che ci ha aiutato proprio nella composizione, anche lui, come testo, e che ha fatto anche i tuoi coretti! Ha fatto i coretti, ha fatto i coretti alla Giorgio Usai! Eh sì, ha richiamato un po' il tuo mondo! Ha richiamato un po' il mondo utroso, in cui io appartengo e continuo ad appartenere! E poi il grande Freddy Vandresi, nel cui studio io ho cantato e suonato, il studio si chiama 150, è uno studio ed è sopra Re Coussio, quindi nella campagna genovese! E poi bisogna ringraziare di nuovo Beppe! Ed è veramente, ti invoglia veramente a fare le cose, dico la verità! ...e tre si andava in studio, si andava nelle sale di registrazione... ...con la tecnologia di adesso, cioè io canto a Genova, lui suona a Trieste, e riusciamo poi a metterlo insieme... ...cavolicchio! Devo dire ancora una cosa! Ah, bravo! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Il quadro originale! Dalla quale è stata ispirata! Dalla quale lui, il grande Maurizio, con la sua grande tecnica, è riuscito a trasformarlo in una copertina del disco! Ricordiamo chi ha fatto questa... Questa qui è la mia grande amica, bravissima, Luciana Audisio, che è una grande pittrice acquarellista, tra l'altro, bravissima! Ecco! Va bene ragazzi! Siamo in saluti! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti gli amici di Videoradio Channel! Ciao Videoradio Channel! Ciao!